Ciao Bannis, era solo un paio di giorni fa che stavamo festeggiando l'arrivo di Uptober che stava arrivando sui mercati, oggi dump del mercato cripto, che cosa sta succedendo? Nubi all'orizzonte, cigni neri, andiamola a vedere subito di cosa stiamo parlando. Ecco qua questo Uptober, come sta cominciando ragazzi, ieri proprio e anche oggi dump, clamoroso del mondo cripto, bitcoin per del 4%, ethereum 7%, ethereum staking lo stesso, doge meno 10, ton meno 6 e se vediamo anche il grafico di Crypto Bubble, notiamo come anche tutte le altcoin, tranne qualche eccezione che vedremo tra poco, è in rosso ragazzi, ma perché sta accadendo questo? Come sapete ieri c'è stato il temuto attacco dell'Iran contro Israele, questo ha impattato sia sui mercati azionari e chiaramente anche sul mercato cripto. La geopolitica in queste settimane, questi ultimi mesi è molto più rilevante secondo me dei grafici, il sentiment lo sovrasta, non sono uno che guarda perlomeno i grafici, non faccio trading, io riporto informazioni e posso dare consigli sulla mia esperienza. Pertanto conviene davvero tenere sotto scacco l'informazione per quanto riguarda l'attività geopolitica, il timore di un cegno nero all'orizzonte è sempre percepibile, anche perché la notizia di oggi è che Israele probabilmente, come era presumibile, riattaccherà, risponderà l'attacco iraniano, le conseguenze nessuno può saperle, se possa davvero deflagrare in una guerra totale, tutti i governi sono nell'attenzione massima e quindi anche i mercati reagiscono di conseguenza. Che cos'è un cegno nero? Un cegno nero è quell'evento inaspettato quasi che si staglia all'orizzonte, l'ultimo cegno nero sui mercati è stato proprio la pandemia e i conseguenti lockdown. Andiamo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni, manteniamo sempre l'allerta alta. Che cosa fare sui mercati ragazzi? Nessuno può dirlo perché questo October potrebbe trasformarsi davvero in un'altalena di energia. Ma se tutto crolla ragazzi c'è anche qualcuno che fa valere la sua forza, guardate qui Dijan che cosa è stato capace di fare? Anche oggi in super pump è arrivato quasi al 150%, quasi a un centesimo superato di dollaro, ma come mai? Andiamo a vedere a perché. Facciamo un passo indietro e andiamo a vedere che cos'è Dijan, ve l'abbiamo sempre anche in passato proposto. E' praticamente il token della community di Farcaster. Farcaster è questo social file su base che ha diversi client, tra cui Warpcast di cui vi abbiamo parlato, il token serve insomma da gas e da utility per questo social file davvero in ascesa e soprattutto c'è stata una notizia che ha cambiato i connotati a questa moneta, andiamola a vedere. Ed eccola qui la notizia ricondivisa anche da Jess Pollack su base, CEO di base, praticamente ragazzi verrà listata su Coinbase, quindi più di 100 milioni di utenti che potranno acquistare questo token, prima era presente solo con i Perpetual ed il token come abbiamo visto è presente già su qualche change come BitGet. Eccoci qui invece sulle performance ragazzi, gli ultimi 60 giorni di questo token davvero in ascesa. che dirvi ragazzi, attualmente è difficile entrare ma tenetelo d'occhio perché potrebbe regalare nei prossimi mesi davvero tante soddisfazioni. Vi ricordo che sul mio profilo TikTok ne ho già parlato, eccolo qui ragazzi, il TikTok riguardante Farcaster, ne abbiamo parlato però anche altrove in una live di qualche tempo fa. Infatti sul nostro canale rosso di Crypto4Bunners ne abbiamo parlato qui in una bella live con i Fibos Frank, sarà in programma anche un'altra live nei prossimi giorni dove andiamo a vedere tutto quello che è successo su questo social file, cigni neri permettendi potrebbero davvero regalare soddisfazioni e un ecosistema, quello di base, che sta davvero in hype. E concludiamo con questo divertentissimo meme che infatti come dicevamo, uptober ormai l'avente è stato cancellato, che cosa noi pensate voi di quest'ottobre, che cosa può accadere, il cigno nero all'orizzonte si presenterà o meno, fatemi sapere tutto nei commenti ragazzi, noi invece ci vediamo domani per un nuovo appuntamento sempre qui sul mio canale, ciao Bannis, un saluto da Panoschi.